Tav è la complicata ricerca del dialogo tra sì e no verso un vertice romano a Pendino di Maio, industriali torinesi in visita al tunnel francese di Saint-Martin-la-Torpe. Buongiorno dal telegiornale del Piemonte, prove di dialogo dunque sulla Tav. Ieri la sindaca Chiara Pendino ha ribadito di tenere aperta la porta per il confronto. In prospettiva ci sarebbe un incontro a Roma tra le categorie produttive e il vice-premier Di Maio. Intanto gli industriali torinesi visitano il tunnel francese a Saint-Martin-la-Porte. Davide Piriocos. L'analisi costi-benefici sulla Tav rischia di costare cara. 75 milioni di euro per ogni mese di ritardo nell'investire le risorse europee. Dopo la grande manifestazione di Piazza Castello, il movimento C-Tav prosegue la propria offensiva. E Paolo Foglietta, commissario straordinario per la Torino-Lione, elenca cifre e dati. I bandi, dice, debbono partire subito, altrimenti addio finanziamenti comunitari. Foglietta offre il proprio contributo tecnico a commercianti e artigiani, che nei giorni scorsi sono stati contattati uno per uno dalla sindaca Pendino, per un confronto sulla Tav, ma che non vogliono dividere un fronte la cui forza è la compattezza. Hanno così deciso di accettare tutti assieme un incontro a Roma col ministro Di Maio. Nel frattempo, su change.org, la petizione pro-Tav dell'ex sottosegretario Meno Giacchino ha superato le 67.000 firme e gli industriali di tutte le territoriali di Confindustria Piemonte hanno deciso di visitare il cantiere francese di Saint-Martin-le-Port, dove lo scavo del tunnel ferroviario è già in fase avanzata. Un eventuale stop, osservano, porterebbe la Francia a chiedere all'Italia di pagare per quanto già fatto e di riempire a nostre spese la galleria. Nel frattempo, il successo della manifestazione C-Tav contagia le altre regioni. In Liguria, i sindacati vogliono scendere in piazza per dire sì a Terzo Valico, Gronda e ricostruzione del Ponte Morandi.